PicTepert è un progetto editoriale nato nel 2015 dalla divisione italiana di PicTé Asset Management, uno dei maggiori gestori indipendenti in Europa, per promuovere la cultura finanziaria, condividere dati e punti di vista sulle tematiche economiche e finanziare, di maggiore interesse per gli investitori privati e supportare la conoscenza del mondo della finanza per scelte consapevoli di investimento. Di cosa si parla su PicTepert? PicTepert propone articoli originali su macro aggiornamenti relativi a mercati, analisi finanziarie ed economiche, megatrend, notizie su eventi di settore, approfondimenti su fenomeni finanziari e macroeconomici, storie di innovazione e nuove opportunità di investimento Tutti gli argomenti sono trattati in modo semplice e diretto, senza mai perdere di vista il contesto, la sua complessità e la sua continua evoluzione. L'educazione finanziaria su PicTepert e per comprendere le sfide del mercato e fare scelte di investimento consapevoli, è prioritario. Conoscere le basi della finanza, è per questo che PicTepert è anche il luogo dell'educazione finanziaria. Guide e focus in continuo aggiornamento sono a disposizione per conoscere e approfondire i principali concetti di finanza ed economia, per rispolverare la propria conoscenza o per apprendere qualcosa di nuovo. Una sezione dedicata al glossario, inoltre, fornisce brevi definizioni di oltre un centinaio di termini per arricchire velocemente il proprio vocabolario finanziario. Scopri tutte le categorie e le categorie di PicTepert e sono molte, a partire dagli argomenti più popolari come investimenti, sostenibilità e innovazioni per passare poi ai contributi video con le analisi mensili dei mercati a cura del team di Investment Advisory di PicTem Italia. Nella sezione Guida alla finanza, inoltre, puoi leggere e scaricare infografiche su grandi temi come finanza, settori emergenti e trasformazioni tecnologiche. Segui PicTepert e anche sui social puoi rimanere aggiornato su tutte le attività, gli articoli, le guide e i focus di PicTepert. E attraverso le pagine di PicTem Italia in tutti i principali canali social LinkedIn, Instagram e guardare i nostri contenuti sul canale YouTube. Il presente materiale di marketing è emesso da PicT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PicT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rue du Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PicT e Asset Management, Europe, S. A. Che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE, unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management